Musica Ben ritrovati con l'informazione. Sono 1917 nuovi contagi da coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore che portano in totale a 362.925 casi dall'inizio della pandemia, lo ha riferito il bollettino regionale odierno. Le vittime salgono a 10.318 con i 23 decessi nelle ultime 24 ore. I positivi attuali sono 37.613, 675 in più rispetto a ieri. Stabile la situazione clinica è invariata nei reparti non critici che accolgono 1.610 pazienti. Sono invece 8 i nuovi ingressi in terapia intensiva con 219 ricoverati. L'ultima proiezione dell'indice di contagio RT è di circa 1.25. Intanto oggi si è parlato sempre dal centro di Marghera, il centro di protezione civile, si è parlato dei risultati di quelle che sono le prime cure con il nuovo sistema dei monoclonali in regione. Ne ha parlato proprio il governatore Luca Zaia. Vediamo. Effettivamente qualcosa in Italia è cambiato e martedì scorso AIFA ha consegnato alle regioni il primo gruppo, la prima consegna di anticorpi monoclonali. Perché questo dato è estremamente importante, anche se poi ho notato che non è stato in maniera adeguata commentato a livello dei media, perché in realtà siamo l'unico paese con la Germania che ha approvato in via emergenziale gli anticorpi monoclonali e quindi ci troviamo, che sono gli stessi per capirci, di quelli famosi che viene continuamente commentato che ha usato Trump per la sua terapia, che poi sia vero o meno, però insomma diciamo questo è quello che ci viene comunicato, e è un'arma che può essere estremamente utile coniugata con tutto quello che noi già abbiamo. Quindi significa che abbiamo la possibilità di vaccinare, la possibilità di trattare con farmaci che non sono quelli di un anno fa e in più con l'anticorpo monoclonale possiamo aiutare tutti i soggetti che non sono stati ancora vaccinati, che purtroppo hanno acquisito il Covid, hanno dei fattori di rischio per finire in ospedale e purtroppo anche associati a una possibile mortalità. Se riusciamo a fare questo anticorpo monoclonale nelle prime 72 ore, diciamo entro i primi 4-5 giorni, anche se il farmaco è stato approvato entro i primi 10, però i dati ci dicono che è efficace quanto più precoci siamo, diamo al soggetto un'enorme possibilità di non finire in ospedale. E questo ovviamente per il controllo della malattia a livello della regione, della città, fa una differenza estremamente importante. A Verona ci siamo organizzati molto rapidamente per poter dare questa opportunità ai cittadini. Devo dire che è stato un incredibile lavoro di squadra, perché quello che è poi uno dei tanti messaggi del Covid, l'ospedale che lavora con la regione, che lavora con la comunità, perché purtroppo tanti dei problemi del Covid sono stati anche correlati al fatto che la rete e il lavoro con i medici di medicina generale non è al livello che vorremmo che fosse, cioè può essere ulteriormente migliorata. E questo di costituire questo ambulatorio, in cui noi abbiamo fatto delle schede per i colleghi di medicina generale, li abbiamo condivisi con la ULS, che nel mio caso è la ULS 9, ma è ovviamente un modello che stiamo cercando di trasportare e trasmettere a tutte le altre ULS. Il medico vede il paziente, fa un test rapido anche, anche se non molecolare, un rapido di terza generazione, ci contatta 24 ore su 24 con una scheda online, quindi non deve nemmeno perdere il tempo per telefonare, noi chiamiamo il paziente e gli facciamo la terapia il più rapidamente possibile. I primi due pazienti erano quasi emozionati, è stata anche una bella sensazione di team, vedere come erano contenti di fare la terapia, la somministrazione è una sola ora e teniamo il paziente in osservazione per un'ulteriore ora e poi il paziente va a casa. Siamo d'accordo con i medici di medicina generale, lo stesso si farà in tutto il Veneto, che nelle quattro settimane successive tengano in qualche modo sotto controllo il paziente, nel senso che il paziente chiama il medico di medicina generale, che in contatto con noi chiude la cartella e il caso del paziente a distanza di quattro settimane e comunica anche ad AIFA che tutto è andato perfettamente bene. La cronaca ancora un'auto, l'ennesima che finisce dentro il fiume Menago, poco prima di Santa Teresa in valle, località del comune di Cerea nel Veronese, lungo la strada provinciale 47. La donna all'interno dell'Utilitalia che è finita in acqua, una 23enne, ne è uscita miracolosamente in colume. Secondo i primi accertamenti effettuati dai vigili della Polizia Locale di Cerea, si è trattato di una fuoriuscita autonoma. Le condizioni comunque non destano preoccupazione. Ieri pomeriggio, CML, nata nel 1966, residente a Montegrotto Terme, denunciava che il marito convivente, fracasso massimo, nato nel 1963, nel corso della mattinata, si era allontanato dalla propria abitazione senza farvi più ritorno. È stato attivato il previsto piano di ricerche. I militari della Compagnia dei Carabinieri di Abano Terme hanno trovato nel cortile dell'Hotel Imperial, attualmente in disuso a Montegrotto Terme, il corpo senza vita dell'uomo che aveva posto in essere il proprio suicidio utilizzando una corda fissata ad un albero. Non vi sono particolari motivi al momento che lo abbiano indotto a commettere l'insano gesto. Il corpo, come disposto dal PM di turno, è stato trasportato alla casa di cura di Abano in attesa di eventuali esami. La Guardia di Finanza di Treviso, nel corso di un controllo al casello autostradale di Venezia Est, ha sequestrato 450.000 mascherine di produzione cinese, tutte non conformi alla legge. La merce si trovava in un camion entrato in Italia dal balico di Farnetti. In particolare, 205.000 mascherine riportavano la marcatura CE contraffatta ed erano ovviamente sprovviste di tutte le certificazioni necessarie a provare la conformità degli standard di sicurezza. Il restante era costituito da 245.000 mascherine destinate ai bambini più piccoli, che riportavano i loghi contraffatti dei più noti personaggi dei cartoni animati. La sezione volanti e del reparto prevenzione crimine della questura di Padova, in particolare quella della stazione e dell'Arcella, hanno fatto dei controlli finalizzati al contrasto, allo spaccio e alla microcriminalità. Nel corso dell'attività, le volanti hanno tratto in arresto Iacubi Farid per detenzione ai fini di spaccio di Eroina e di Ashish. La pattuglia lo aveva notato nei pressi di un parcheggio esterno tra Piazza De Gasperi e Via Trieste, dove alla vista della volante l'uomo ha invertito in maniera repentina il senso di marcia al fine di eludere il controllo. Bloccato dagli operatori e risultato peraltro sprovvisto di documento di riconoscimento, il tunisino è stato trovato poi in possesso di un involucro in celofan contenente la droga. In cavalcavia Borgo Magno, invece, una tra pattuglia ha notato due persone intente a scambiarsi qualcosa, le quali alla vista degli operatori si allontanavano in direzioni opposte. Uno dei due, un quarantenne italiano di origini napoletane, in sella alla sua bici, è stato inseguito dagli agenti e poco prima è stato bloccato. Ha gettato per terra un involucro in celofan contenente quasi un grammo di cocaina. Subito recuperato dagli stessi e quindi accompagnato dalla questura. L'altro, un 35enne tunisino, rintracciato poi nel corso della serata, è stato individuato quale pusher da cui l'italiano appunto si riforniva. Con il nuovo Via Libera al Siero AstraZeneca, anche nella marca trevigiana, la campagna di vaccinazione riprende a pieno ritmo. Domani l'Ulsa ha convocato già 1.500 persone tra quelle saltate nei giorni scorsi e più un altro migliaio tra over 80 e richiami di altre categorie. Domenica altre 3.200 prenotazioni per le fasce fragili con altri vaccini. Sul fronte delle cure, cominciate le terapie con gli anticorpi monoclonali destinati un sessantenne dell'ospedale di Treviso e un 32enne di quello di Vittorio Veneto. Il servizio da Veneto 1. Intanto volevo dire che AstraZeneca è sicuro, l'ha detto l'Emma, l'ha detto quindi un'agenzia certificata europea. Lo stanno dicendo tutti i colleghi più accreditati certamente di me, dai virologi, che AstraZeneca non crea problemi, quindi AstraZeneca va utilizzata a pieno per vaccinare tutta la popolazione e metterci tutti in sicurezza, soprattutto da patologie importanti come le polmonite oppure anche purtroppo anche dalla morte. Noi inizieremo domani, faremo intanto, siccome stiamo reclutando la gente, abbiamo avuto questo stop importante a Villorba, il bocciolano di Villorba, chiameremo, stiamo chiamando 1.500 persone e continuo a ribadire a tutti che AstraZeneca è sicura, per cui vaccinatevi perché è importante metterci tutti in sicurezza rispetto a questo virus. Quindi domani si parte con i primi 1.500 soggetti da vaccinare con AstraZeneca, ci sarà la possibilità di qualche coda? Sì, perché facciamo un po' il cosiddetto overbooking, quindi chiameremo un po' di più di persone, ma lo facciamo perché non vorremmo fare in modo di utilizzare tutte le dosi e di non sprecare dosi. Poi da lunedì partiremo in modo massiccio nelle otto sedi vaccinali che abbiamo, utilizzando all'85% AstraZeneca e facendo l'altro 15% i richiami con Pfizer e Moderna per le persone over 80. Quindi per arrivare a regime, direttore, su quante persone vaccinate al giorno? Dobbiamo arrivare sostanzialmente per AstraZeneca a fare almeno 7-8.000 persone al giorno. Comunque arriveremo a circa 9.500 persone che faremo al giorno per tutti i giorni, comprese la domenica. Stiamo anche valutando, grazie anche al sindaco, al presidente della conferenza, a dottoressa Roma, la possibilità di chiedere ai sindaci, abbiamo già avuto qualche disponibilità, di utilizzare i palazzetti in modo tale da poter vaccinare fino alle ore 24 per le persone che ovviamente lavorano e non hanno disponibilità di tempo per venire prima. Confermato comunque l'obiettivo di arrivare a somministrare almeno una dose a tutti i trevigiani entro agosto? Assolutamente sì, continuo a ribadire la vaccinazione è l'unica arma che abbiamo, quindi è chiaro che bisogna arrivare entro agosto ad affare almeno una prima dose da tutta la popolazione della provincia di Treviso. Teme tante defezioni tra chi sarà chiamato a vaccinarsi con AstraZeneca? Io le temo perché qualche notizia che è uscita che non era proprio lineare ha creato un po' ovviamente di confusione nelle persone e lo possiamo capire, comunque ci tengo a ribadire come stanno ribadendo tutti gli esperti a livello nazionale, io non sono un esperto, ma tutti gli esperti medici a livello nazionale che AstraZeneca è un vaccino sicuro, per cui chiedo a tutti veramente di rispondere alla chiamata, di essere presenti perché ci salviamo solo con il vaccino. Poteva andare peggio all'ex presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin, il Tribunale di Vicenza oggi lo ha condannato a sei anni e sei mesi in qualità di presidente della Banca Popolare di Vicenza per le irregolarità legate alla gestione dell'istituto bancario poi dichiarato fallito. La sentenza è stata letta intorno alle 16 di oggi pomeriggio al termine della Camera di Consiglio che era iniziata ieri alle 14. Nei confronti di Zonin l'accusa aveva chiesto una condanna a 10 anni di reclusione. Si chiama Effetto Doppler la terza proposta progettuale presentata dal Comune di Padova al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare. Il nome Doppler è stato scelto per il progetto che si sviluppa a lungo il tracciato della linea 3 del sistema trambiario Smart dalla zona della stazione Fiera a Voltavarozzo e che ha tra i suoi elementi più significativi la realizzazione della futura Arena della Musica al padiglione 7 della Fiera di Padova. L'idea è quella di riqualificare e valorizzare i luoghi e le funzioni che si sviluppano lungo il tracciato del tram. Il progetto si articolerà quindi in tre ambiti. Il primo riguarda i padiglioni 7 e 5 della Fiera di Padova. Il secondo in ambito progettuale riguarda ovviamente il Parco dei Faggi e il terzo invece è legato al tema della riqualificazione dei luoghi dell'abitare e in particolare l'edilizia residenziale pubblica. La proposta vede due edifici dell'ERP in via Pizzamano con la demolizione e la ricostruzione di 22 alloggi e ancora in via Telesio ai quali si aggiungono interventi sui vari spazi pubblici limitrofi. Vediamo. Ancora un flash mob da parte dei componenti del gruppo dei giovani appartenenti al Free Day for Future che oggi pomeriggio si sono ritrovati a Palazzo Moroni per dare un segno tangibile al loro progetto di sostenibilità sociale. Dopo Milano anche altre città italiane sono state coinvolte in altrettanti presidi con i vari flash mob spontanei dedicati alla giornata mondiale di azione per il clima. Oggi ha avuto luogo presso la caserma Giuseppe Vedezio alla presenza del comandante generale dell'arma dei carabinieri il generale di corpo d'armata Teo Luzzi la cerimonia di avvicendamento al comando interregionale carabinieri Vittorio Veneto tra il generale di corpo d'armata Enzo Bernardini e il generale di corpo d'armata Antonio Paparella all'evento preceduto dagli onori ai caduti dell'arma presso la lapide ubicata in via Oberdan hanno partecipato i comandanti delle legioni carabinieri Veneto Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e un delegato per gli organismi della rappresentanza. La cerimonia svoltasi assicurando il rigoroso rispetto delle regole connesse al contenimento della diffusione da Covid-19 è stata caratterizzata dai saluti di commiato del generale Bernardini che dopo oltre due anni intensi al comando interregionale carabinieri Vittorio Veneto andrà a ricoprire il prestigioso incarico di vice comandante generale dell'arma dei carabinieri e quelli del comandante subentrante generale Antonio Paparella proveniente dal comando interregionale carabinieri Podgora di Roma ed è scattato l'appello della vicepresidente di Assindustria Veneto Centro all'indomani del vertice che è avvenuto tra le province di Padova Treviso e Vicenza l'indesto alla pedemontana e i corridoi europei è la priorità per le tre province a cui si deve il 65% dell'export Veneto più possibilità se il territorio è unito ma a prescindere dal recovery bisogna accelerare fondi e procedure ogni giorno transitano 45.000 auto al giorno tra Castelfranco e da Padova circa 80.000 a causa degli ultimi anni di mancati investimenti o di trasferimenti di attività e quindi procedere nell'immediato alla riqualificazione urgente della statale 47 Valsugara è tutto per questa nostra edizione del giornale vi diamo appuntamento come sempre alle prossime edizioni ma vi raccomando di seguire anche attraverso il nostro sito www.caffetv24.it o di tenervi aggiornati anche attraverso la nostra pagina social www.caffetv24.it 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 www.caffetv24.it